e benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi in una nuova postazione ma oggi abbiamo una scatola della juventus cosa ci potrà mai essere dentro io non lo so cioè in realtà lo so e però non me lo faccio vedere anche se c'è scritto qua ah no no perfetto non lo faccio neanche vedere allora meglio me lo aprirò però ce lo dobbiamo meritare ragazzi infatti dobbiamo fare alla mira con il video di ieri al meglio di tre devo arrivare a tre e quindi devo fare cioè no allora devo arrivare a cinque devo arrivare a cinque però ho dieci tentativi dove la palla devo arrivare a cinque e ho esattamente dieci tentativi si ragazzi dieci tentativi sono abbastanza perfetto dieci tentativi cinque cinque tiri prima che ho fatto quindi siamo uno su uno uno su uno perfetto io sono brava abbastanza bravo con la mira siamo uno su uno due nooo uno su due non ci posso credere uno su tre se non ce lo faccio che faccio uno su tre siamo ok entrata due su quattro due su quattro due su quattro due su quattro ragazzi siamo due su quattro due su quattro ok tre su cinque perfetto 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 tre su cinque ok quattro su cinque l'ultimo c'è uno quattro su sei l'ultimo l'ultimo e posso meditarmi con il pack l'ultimo fatto ragazzi e ci meditiamo il pack il pacchetto della juventus perfetto perfetto ragazzi eccolo qui allora iniziamo allora è lui è quello della juventus ediz il limite dell'edition è molto cioè non pesa tantissimo apriamolo mi sa che sono degli sticker infatti ragazzi sono degli sticker degli adesivi e ve li faccio vedere piano piano perché se no ok apriamolo aspettate che lo faccio vedere allora passiamo ai primi sticker c'è questo qui della juve gigantesco e questi due piccolini e uno ragazzi scusate ma l'ho attaccato dietro il telefono così guardate che bello ma ragazzi no ok mettiamolo via mettiamolo esattamente via ah ci sono degli sticker normali questi ve li faccio vedere anche così questi qua eccoli qua allora sono della juve sempre ovviamente però sono qua allora della juve science 1897 due ce ne sono di questi e poi due di questi qui bellissimi e due di questi qua tipo con la bandiera della juve poi qua c'è uno con la juve e lo sfondo nero e poi qua c'è fino alla fine la scritta fino alla fine la juve lo juventus più piccolo però fino alla fine ma in nero una scritta della juventus minuscola con così e due cosi della juventus così sempre tutto alla juve lo sentiamo io ha queste targhette che mi sa che sono delle targhette fino alla fine e sono queste qua ragazzi non c'è bisogno di dire niente qua e ragazzi passiamo a questi che sono di una sostanza molto sono belli vabbè come sono questi qua juve science 1897 fino alla fine juventus bianconeri black and white e fino alla fine poi un normale foglio con la scritta della juventus sempre adesivi bianconeri white e fino alla fine e la bandiera senza lo stemma e lo stemma e la juve piccolo un altro piccolo black e black and white lo stemma e la juve piccolo nero sto accumulando tutta la roba un altro simile e l'ultimo juventus fino alla fine juventus juve science 1897 la juventus qua tutto il juventus questo qua bellissimo ragazzi mi sono innamorato di questo che è un adesivo gigantesco della juventus e poi ragazzi c'è l'ultimo adesivo così uno della juventus bianco e uno nero ragazzi la cosa bella adesso è mettere a posto perché è veramente difficile perché la si deve anche chiudere la scatola quindi allora eccoli qua tutti i peglietti li mettiamo qua anzi ok li mettiamo qua scusate e questo che è grande lo mettiamo così eh però vabbè così va benissimo diciamo che va bene ora un'impresa è chiuderla credo ah lo studo facilmente per fortuna io ragazzi sto studendo 4 camicie per fare sto video infatti in estate ne farò meno già adesso ne sto facendo meno ma perché fa caldo ragazzi ok e ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto e ciao